Ma io spero di no, è vero che il nostro era il miglior sistema sanitario del mondo, ma non sto coltivando un'illusione insieme a Simona, ma la speranza di riuscire a fermare la deriva. E io credo che sia possibile, l'intento di questo libro non è tanto quello di suscitare indignazione, ma dare strumenti di comprensione dell'insieme per riuscire ad arginare questo sgretolamento, che io credo sia ancora possibile. In ogni caso Simona, un'indignazione anche quando leggi le lobby che bloccano il cambiamento, che poi danneggia tutti noi, un po' di indignazione viene. C'è un dato che mi ha colpito, siamo nella stagione finale dell'anno e voi scrivete che tra ottobre e dicembre non si cura più nessuno, non ci sono, crollano i numeri delle visite specialistiche, delle analisi di laboratorio, questo vuol dire che a Natale stiamo tutti bene? Che ci dice questo libro? Allora, sembrerebbe che a Natale siamo tutti più sani, in realtà non è così, è un fenomeno che monitoriamo da anni e ogni anno speriamo di esserci sbagliati, che qualcosa cambi, invece ogni anno puntualmente, da ottobre a dicembre, diminuiscono gli esami del sangue, le TAC, le ecografie, le gastroscopie, diminuiscono e diminuiscono soprattutto in quelli che sono gli ospedali privati accreditati, che dovrebbero essere una stampella importante del pubblico per smaltire le liste d'attesa. Perché diminuiscono? Perché le strutture private accreditate hanno dei tetti di budget, ossia possono spendere fino a un tot di soldi, quando hanno finito i soldi da spendere, fanno diminuire le prestazioni. Uno dice, vabbè, ovviamente mica possono lavorare le strutture private accreditate gratis, ci mancherebbe. In realtà il problema è un po' compresso, perché poi se andiamo a vedere cosa invece fanno sempre le strutture private accreditate, troviamo quello che più gli conviene, perché ha i rimborsi più alti, quindi diminuiscono dove in realtà non gli conviene. E adesso ci torniamo, però sulla spesa per la sanità è intervenuta ieri Giorgia Meloni nel programma di Bruno Vespa, ha estratto la calcolatrice. Quanto spende lo Stato italiano per ogni cittadino per la sanità? Nel 2019 spendeva 1.919 euro a cittadino. Nel 2025 spenderà 1.317 euro a cittadino. Calcolatrice. 1.300, 1.317, meno 1.919. No, ma sto a sbagliare tutti i conti, dai. L'ho sbagliato tutti, fa 390 euro a cittadino. Ho fatto un casino. Allora. Alla fine la Premier ha quantificato 398 euro in più a cittadino, spesa sanitaria pro capite. Milena, non estraiamo anche noi la calcolatrice, per carità, ma quello che ti voglio chiedere è la spesa sanitaria aumenterà, come dice la Premier, e allora perché medici, infermieri e personale sanitario entrano in sciopero il 20 novembre? Allora, i conti, almeno quelli che stanno sulla legge di bilancio, sono i seguenti. Due miliardi e mezzo di cui un miliardo è già stato dato alle regioni per spese che già avevano sostenuto. 900 milioni sono stati spesi nel corso di quest'anno per il rinnovo dei contratti ai medici. Per il 2025 restano da spendere nella sanità poco più di 400 milioni di euro. Questo è il conto. E questo spiega anche perché ci sarà lo sciopero probabilmente. Simona, scrivete che al privato vanno gli interventi più redditizi, al pubblico tutto il resto. Puoi farci degli esempi? Allora, per esempio, l'esempio più classico è il business del mal di schiena. Cos'è il business del mal di schiena? Ti mettono delle placche, delle vite alla schiena. Ed è un intervento che dovrebbe essere fatto come ultima razza. Quando fisioterapia o zonoterapia, tutte soluzioni meno costose, non funzionano. Invece, vediamo che i privati accreditati puntano tantissimo su questo tipo di interventi. Così come puntano sulle sostituzioni delle valvole cardiache, sulle protesi. Quali sono? Sugli interventi contro l'obesità, per esempio. Sono tutti interventi che hanno delle tariffe di rimborso altissime. Il mal di schiena, l'artrodesi sono 19 mila euro. Altri interventi arrivano fino a 20 mila. Quindi spingono su quello che gli conviene. I dati qui sono inconfutabili. Perché se noi abbiamo un rapporto pubblico-privato, il 65% degli interventi viene fatto nel pubblico e poi gli altri nel privato, si invertono le percentuali. Lo vediamo qui, la cifra che gli italiani spendono per le spese ambituali atoriali di tasca loro, 5,4 miliardi l'anno.